La legge eterna dell'amore scritto dal maestro spirituale vivente Isha Babaji Questo libro insegna come arrivare ad avere la pace interiore e di conseguenza nel mondo indica che cos'è il vero amore e come applicarlo nelle varie situazioni affinché le paure possano scomparire dalla nostra vita per far posto alla vera conoscenza di quello che siamo veramente amore infinito incondizionato Isha Babaji afferma che l'uomo agisce solo per due motivi, per paura o per amore La paura è umana ed è assenza di vero amore Con la paura si perde la pace L'amore vero è divino ed è assenza di paura Con il vero amore otteniamo la pace O c'è amore o c'è paura, una cosa esclude l'altra L'amore è nascosto nel nostro cuore, dobbiamo solo portarlo alla luce In che modo? Semplicemente amando Attraverso azioni permeate di vero amore ossia giuste azioni che agiscono sulle vere cause dei problemi Quando amiamo veramente la paura scompare attraverso queste giuste azioni La paura è un circolo chiuso che solo il vero amore può spezzare Il libro La legge eterna dell'amore di Isha Babaji ci insegna che noi possiamo superare la paura Eliminando le paure della nostra vita con le giuste azioni possiamo arrivare alla conoscenza di quello che siamo veramente Cioè amore vero Con l'amore vero o amore infinito ed incondizionato è possibile risolvere alle cause tutti i problemi del mondo E trasformare questo pianeta in un paradiso Per un ottimo regalo natalizio e non solo Potete richiedere il libro di Isha Babaji La legge eterna dell'amore Rivolgendovi all'associazione SUM Telefono 0836 48 48 51 E-mail statiuniti del mondo E-mail statiuniti del mondo